Ti sei mai chiesto cosa succede se una medusa ti morde? Ebbene, le meduse non mordono, ma pungono. Se pungono, rilasciano minuscole cellule velenose. Questo causa immediatamente dolore e arrossamento. In alcuni casi, la reazione può essere grave. Può causare difficoltà respiratorie, battito cardiaco irregolare e persino uno shock. Se ti capita, la cosa più importante è non strofinare. Questo può rilasciare più veleno. Lava invece la zona con acqua salata. Ricorda, la prevenzione è la migliore cura. Quindi, quando nuoti, fai attenzione alle meduse. Grazie. 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 Grazie.